Una seconda giornata di lavori dopo la bocciatura del 29 del piano Tari, questa volta è tornato in consiglio e ha trovato i voti della maggioranza. Lei ha votato, non lo nasconde perché insomma è maggioranza, quindi ha votato. Ecco, un commento su questa votazione e su questo nuovo piano. E su come sono andati i lavori consigliari? I lavori sono andati benissimo, c'è stato l'obbligo di fare la seduta in maniera in urgenza, quindi dentro 24 ore, perché c'era una scadenza del 31 marzo. Io infatti ieri ho convocato subito e immediatamente il consiglio comunale, una volta che mi sono arrivate la delibera in consiglio comunale. Oggi c'è stata una bella maratona che è durata oltre 5 ore e si è arrivato al punto di votare con 15 voti favorevole questa delibera. Le propostità che hanno avuto alcuni colleghi, a me la carenzia che mi danno è il parere di legittimità da parte tecnica del dirigente, quindi il consiglio comunale prende atto di quel parere di legittimità, tutto il resto non conta. Quest'oggi è stato votato un secondo atto deliberativo riguardante l'appunto la Tari. Dopo la bocciatura del 29 è ritornato in consiglio con delle modifiche. Che commento? Questa volta la maggioranza ha trovato i numeri e ha votato l'atto. La democrazia prevede la presenza dei numeri, in questo caso la maggioranza aveva i numeri per farlo e lo ha fatto. Quello che noi abbiamo contestato sin da subito è il fatto grave di un aumento esponenziale dei costi del servizio che da 8 milioni passa a 13 milioni di euro. Tutto questo ovviamente sicuramente avrà delle ripercussioni, a delà delle regolazioni di facciata, che le tariffe saranno ridotte, avrà delle ripercussioni sui cittadini. Perché se la motivazione è che i costi si spalmeranno su una platea di contribuenti che sono stati scovati, cosiddetti evasori totali, noi abbiamo dei dubbi sul fatto che tutto ciò possa essere vero al 100%. Nel senso che probabilmente non saranno 9 mila, ma saranno mille, la differenza sarà ripartita su tutti i cittadini. E questo è davvero inaccettabile. Questo è l'unico motivo per cui noi abbiamo votato contro questa delibera.